L'erezione peniena e in particolar modo la disfunzione erettile sono praticamente, in particolar modo la disfunzione erettile è la incapacità di ottenere e soprattutto di mantenere l'erezione al fine di raggiungere, di avere praticamente quello che è un rapporto sessuale soddisfacente. E questa disfunzione erettile colpisce circa il 12% della popolazione maschile in età superiore ai 18 anni e mentre praticamente questa disfunzione erettile è più su base psicogena, psicologica, nei soggetti giovani al di sotto dei 50 anni, con l'avanzare dell'età tende invece ad assumere caratteristiche fisiche e quasi il 50% della popolazione maschile dopo i 70 anni incomincia ad avere problemi di disfunzione erettile. Quindi è un problema praticamente molto importante. Perché? Perché noi la disfunzione erettile, al di là della componente psicologica, ha una componente vasoattiva su cui agiscono praticamente fattori molto importanti quali il fumo, l'alcol, il diabete, le cardiopatie e la depressione. Quindi componenti psicologiche, neurodegenerative, neuropsicologiche come la depressione o malattie come l'Alzheimer e il Parkinson, le cardiopatie in genere, il diabete, una malattia dismetabolica, il fumo di sigaretta. E quindi se sono presenti contemporaneamente fattori come fumo, diabete, cardiopatie e depressione, quel soggetto può avere praticamente fino a 12 volte di più e prima l'insorgenza della disfunzione erettile, cioè l'incapacità di raggiungere un'erezione e di mantenerla durante il rapporto sessuale per permettergli praticamente questo rapporto sessuale. In realtà la funzione sessuale di un uomo, se la vogliamo capire, consta di cinque fasi fondamentali. Una legata principalmente ai fattori psicologici androgeni che è la prima fase, quello dello stimolo sessuale, della libido, che praticamente è influenzata proprio da fattori psicologici e da fattori ormonali di androgeni. E in questo interviene il testosterone e poi lo vedremo parlando praticamente delle erezioni notturne in cui uno ha un'erezione notturna senza avere stimoli fisici, ok? Soprattutto nella fase REM e quella è legata agli alti livelli di testosterone. E quello è un primo segnale di abbassamento dei livelli di testosterone. Quindi le erezioni notturne, incominciamo a capirle, sono un indicatore chiaro praticamente di normali livelli di testosterone. Mentre bassi livelli di testosterone, quindi l'ipogonadismo, potrebbe non di bene non influenzare invece la capacità erettile, praticamente su base invece vassoattiva che poi andremo a vedere. Dopo la prima fase psicologica e ormonale androgenica c'è una seconda fase che sfocia appunto nell'erezione, che è l'erezione, che in realtà è, dopo questo evento diciamo psicologico endocrino, diventa l'evento vascolare, neurovascolare, che si realizza grazie ad una serie di fini interazioni tra le innervazioni simpatiche e parasimpatiche a livello del pene, fra la muscolatura liscia e striata dei corpi cavernosi e del pavimento pelvico, perché intervengono sia la muscolatura liscia dei corpi cavernosi che la muscolatura striata del pavimento pelvico, che determina questa variazione delle tensioni muscolari e soprattutto il rilasciamento, l'applusso, l'apporto ematico, che determina, mediante la distensione dei corpi cavernosi e la tensione in cui va incontro la tonica albugginia che sta all'intorno, elemento praticamente che interviene oltre al rilasciamento della muscolatura, è la venocostrizione che impedisce il deflusso praticamente del sangue che è entrato a livello arterioso, per cui i neurotrasmettitori, perché è neurovascolare, che intervengono nel meccanismo dell'erezione sono alla fine l'ossido nitrico che svolge la sua funzione, e poi la vedremo, il polipeptide vasoattivo che è di origine enterica, che è non adrenergico, non colinergico, l'acetilcolina che è quella che a noi ci interessa soprattutto per quanto riguarda questo oggetto da chiacchierata del nostro integratore depuratore epatico che contiene la colina perché è il precursore insieme all'acido acetato dell'acetilcolina e le prostaglandine, lo vedremo. Dopo queste fasi, prime due fasi, quella prima fase psicogeno-androgena e quella vasoattiva praticamente neurovascolare, c'è la terza fase che è la fase dell'eagulazione, a cui segue poi la fase dell'orgasmo, anche l'eagulazione e la quantità di sperma è androgeno-dipendente, così come la quarta fase che è l'orgasmo, che anch'essa è androgeno-dipendente perché l'orgasmo sarà maggiore quanto maggiore è la produzione che noi abbiamo di ormoni androgeni, quindi gli androgeni sono il benessere mentale oltre che fisico dell'uomo, e la quinta fase che è la fase della detumescenza. Le cause di disfunzione erettile, lo abbiamo detto, in realtà sono tutte quelle che creano un problema quando interviene la fase della tumescenza, del riempimento, e solo una piccola parte, diciamo, sono invece di natura psicogena e interessano soprattutto la popolazione giovane, mentre praticamente nelle persone anziane è proprio un fatto vascolare, complicato soprattutto nei pazienti diabetici, dove la disfunzione erettile è presente in circa il 50% dei casi, praticamente, il rischio della disfunzione erettile è tre volte maggiore rispetto alla popolazione sana quando abbiamo il diabete. Inoltre, l'alta prevalenza di disfunzione erettile è associata alla insufficienza denale cronica, il 40% dei casi, e all'insufficienza epatica, il 25-70% dei casi, insufficienza epatica, ecco l'importanza della colina che rientra proprio sul funzionamento del fegato. E la colina che agisce nel far accumulare livelli alti di acidulcolina è proprio legata anche alla disfunzione erettile, al morbo di Parkinson, alla malattia di Alzheimer, agli esiti di un ictus, che possono essere cause di disfunzione erettile in quanto responsabile della riduzione non solo dell'adhibito ma anche dei meccanismi di iniziazione dell'erezione. Per cui la colina e l'accumulo di acetilcolina e quindi la disponibilità e il funzionamento corretto del fegato rappresentano sicuramente gli elementi importanti. Inoltre, i traumi spinali possono determinare una causa fisica della incapacità erettile, della disfunzione erettile. A fianco a queste cause fisiche e cause dismetaboliche che abbiamo detto, in cui la colina prende un elemento importante, ci sono anche cause endocrine di disfunzione erettile e possono essere molteplici come l'ipotiroidismo o l'ipertiroidismo come l'ipocomodadismo e soprattutto l'iperprolattinemia. Poi la disfunzione erettile su base psicologica colpisce invece prevalentemente i soggetti giovani e in particolar modo in una piccola percentuale può colpire anche soggetti praticamente adulti. Quello che praticamente è anche da considerare sono altre situazioni cliniche quali l'uso di antipertensivi, sostanze ormonali, farmaci antidepressivi, ansiolitici o anche droghe come le rovine e la cocaina possono determinare una disfunzione erettile. Come va valutato un paziente per la disfunzione erettile? Lo diciamo subito questa cosa prima di entrare proprio nel vivo della componente vasoattivo in cui capiamo quanto sia importante assumere questo integratore per il fegato. Perché? Perché il paziente praticamente come va valutato dal punto di vista fisico potremmo valutare praticamente gli organi esterni come un fisico generale e soprattutto quella che è la distribuzione dei peli e la presenza o meno di gineatomastia. Inoltre praticamente oggi si fa più un test che è il test che abbiamo già parlato, l'International Index of Erective Function, sarebbe l'IEF, praticamente è che questo viene circa 15 domande per valutare quelli che sono gli aspetti della funzione sessuale. Mentre l'unico esame che noi indichiamo importante per valutare praticamente il livello ormonale è la testosteronemia, cioè i livelli di testosterone totale e solo se i livelli di testosterone totale sono bassi sarebbe opportuno fare il testosterone libero che io invece lo faccio fare già insieme al testosterone totale per avere una valutazione. Poi oltre a questo è importante i livelli di prolattina e se siamo e sospettiamo di essere di fronte a un ipogonadismo ipogonotropico allora ha anche il valore dell'ormone lutilizzato. Quindi quando il dosaggio dell'ormone testosterone totale è basso si fa il testosterone libero, la prolattina è praticamente l'ormone lutilizzato. Poi ci sono esami di secondo livello che possono essere praticamente presi in considerazione. Ma adesso andiamo nel vivo della erezione per capire cosa accade a livello del pene nei corpi, soprattutto nei nervi cavernosi che agiscono sui corpi cavernosi che vanno a liberare i diversi neurotrasmettitori tra cui il peptide intestinale vasoattivo, il VIP, l'acetilcolina che viene prodotta dalla colina, continua dal nostro prodotto e dall'acetato, le prostaglandine e l'ultimo, uditutite che tutti ormai conosciamo, l'ossido nitrico, sotto nomi di silenafil, viagra, chalis eccetera eccetera, l'ossido nitrico alla fine della fiera rappresenta praticamente l'elemento che poi va a gire a livello cellulare determinando il rilascio della muscolatura abbassando i livelli del calcio e permettendo la tumescenza del pene per l'entrata del flusso sanguigno e quindi l'inestensibilità della tunica al bugginia che permette l'erezione del pene. E quindi capiamo bene che l'erezione del pene fondamentalmente è un parte da un principio fondamentale, da quello che è il sistema limbico che rappresenta il substrato anatomico per il controllo della sessualità e in particolare delle funzioni dell'appetito, delle voglie, le voglie nel nostro sistema limbico dove c'è anche la memoria e guarda caso proprio, uno smettitore più importante del sistema nervoso centrale e periferico ma in particolar modo che interessa il sistema limbico è proprio la cericolina, quindi una disponibilità di cericolina non solo ci fa avere una buona memoria e ci allontana dall'alzheimer ma ci aiuta praticamente anche ad avere praticamente un buon sistema limbico funzionante e quindi una condizione per avere un buon appetito sessuale. Ovviamente le altre aree di controllo sono l'area preottica, l'ipotala moderale, il tegmento, la parte anteriore del giro cingolato, insomma il meccanismo nervoso, diciamo centrale che determina praticamente un'attivazione delle vie periferiche. E come agiscono queste vie? Possono agire in modo psicogeno e quindi sono legate soltanto a livello cerebrale e a livelli di androgeni e abbiamo l'erezione notturna, oppure invece dove parte? Parte dagli stimoli sensitivi, quindi la stimolazione degli organi genitali, dell'area perianale che porta alla, e l'attività psicogeno, cioè il fatto che ci piace, la persona con cui stiamo di fronte, portano a livello praticamente di stimolazione dell'erezione mediante, su base psicologica, mediante l'inibizione, udito dite, del centro toraco lombare dell'erezione, situato a T10, T12 fino a L2 e attraverso invece quella che è la riduzione del tono adrenergico del pene. Quindi noi abbiamo, inibiamo al centro toraco lombare praticamente da, che è situato praticamente simpatico mimetico tra T12 e L2 e praticamente abbiamo una riduzione del tono androgenico del pene. E quindi le erezioni invece correlate al sonno, richiedono questa inibizione diretta praticamente della, sì, vanno sempre a inibire il centro toraco lombare, ma sono esclusivamente sotto il controllo di stimoli centrali, non hanno bisogno, le erezioni psicogene, scusate, di stimoli fisici sensitivi. E queste avvengono durante la fase REM del sonno e di esse praticamente dobbiamo dire che si sa che sono androgeno dipendenti, quindi livelli alti di aricidilcolina e livelli alti di testosterone ci danno le erezioni notturne. Quando abbiamo le erezioni notturne abbiamo alti livelli di testosterone o sufficienti livelli di testosterone, non bassi e soprattutto abbiamo anche una buona quota di aricidilcolina e questo è importante perché le erezioni notturne ci dicono che siamo in salute, in salute cardiovascolare e salute anche mentale perché questo è molto importante. Quindi dobbiamo dire che qualunque stimolo invece, quali per esempio le funzioni cognitive, cioè la memoria, ma come gli stimoli visivi, olfattivi, uditivi e immaginativi portano a stimolare il sistema nervoso centrale che va a inibire il plesso toraco lombare T10L2 che iubisce normalmente il plesso pelvico perché la maggior parte del tempo il nostro pene se ne sta in riposo e quindi riducono il flusso all'interno del pene e questo sblocco diciamo a livello toraco lombare pette in attività invece il sistema parasimpatico sagrale S2-S4 che è situato a livello S2-S4 e praticamente partono attraverso soprattutto l'attivazione delle NAC NANC che praticamente cioè delle fibre non adrenergiche, non colinergiche stimolano il pene determinando la stimolazione parasimpatica quindi previa attivazione centrale e inibizione del controllo praticamente costante da parte del simpatico. Quindi per avere le erezioni dobbiamo disattivare il simpatico quindi l'ansia, la depressione, lo stress e dobbiamo attivare il sistema parasimpatico. Per disattivare l'ibizione dobbiamo avere questi stimoli che ci danno oppure una componente psicogena praticamente in parte ormonodipendente. E quindi il controllo periferico dell'erezione oltre ad essere erezioni indotte psicologicamente praticamente possono essere ottenute e lo abbiamo detto come sappiamo tutti la stimolazione fisica diretta del pene dell'area perineale che per via refressogena attiva quelle vie nervose che fanno capo al riflesso spinale. La risposta è rettile quindi che cos'è? È il risultato dell'inibizione del concentro simpatico toracolombare T10 L2 T12 L2 della stimolazione del centro parasimpatico dell'erezione S2 S4 il parasimpatico sagrale che lavora con la cetilcolina e l'inibizione o attenzione l'inibizione del sistema toracolombare che è il sistema adrenergico perché come funziona il sistema colinergico e qui vi volevo dire se no mi sfuggiva questo concetto sistema nervoso centrale usa il principale neurotrasmettitore l'acidilcolina che è data dall'acetato più la colina che noi abbiamo qui presente oppure da un precursore aminoacidico come la serina che è contenuto per esempio nelle nostre proteine, le chetoproteine. Questa stimolazione è colinergica. A livello parasimpatico continua a essere colinergica anche nel modo neurone successivo cioè arriva a livello del parasimpatico sagrale e poi dal parasimpatico sagrale S2 S4 parte la via parasimpatica sempre colinergica. Invece a livello del sistema simpatico noi abbiamo le fibre pregangliari si chiamano così che sono praticamente colinergiche quindi della famosa colina. Le fibre successive postgangliari sono invece adrenergiche non adrenergiche. Queste qua sono quelle che controllano ma sono sempre stimolate dall'attività colinergica quindi a noi serve sempre la cericolina sia per inibire il centro torocolombare sia per attivare per via riflessa la via praticamente del centro parasimpatico dell'elezione parasimpatico sagrale. Inoltre oltre all'attivazione del parasimpatico sagrale per via riflessa abbiamo anche l'attivazione del parasimpatico sempre colinergico e della via non adrenergica non colinergica oltre alla parasimpatica che colinergica abbiamo un'altra via non adrenergica non colinergica che è la via chiamata NANC che praticamente fa parte anche il principio vasoattivo intestinale. Quindi tutti questi stimoli che noi stiamo discutendo acidilcolina e non adrenergica non colinergica NANC praticamente agiscono insieme all'ossigeno e all'arginina, alla disponibilità di ossigeno e all'arginina nella produzione dell'ossido nitrico o di tutite. Quindi abbiamo due sistemi noi poi lo vedremo uno quello legato all'ossido nitrico, quello legato alla prostaglandina, alle PGE. Allora quello dell'ossido nitrico O viene liberato a formare la guanilato ciclasi, la CGMP, la quale va a far abbassare i livelli di calcio praticamente intracellulare nei corpi cavernosi rilasciando praticamente la tensione delle cellule muscolari e permettendo praticamente l'entrata del flusso sanguigno e la tumescenza del pene. L'altra via è la via della prostaglandina. Quindi capiamo bene che l'elemento importante che noi dobbiamo avere per avere attiva praticamente l'attivazione del parasimpatico è la disponibilità dell'attività colinergia. Inoltre dovremmo avere anche un testino che funziona perfettamente perché il principio vasoattivo delle vie non adrenergiche, non colinergiche ormai sono state scoperte e sono importantissime, hanno una funzione importante. In tutto questo discorso rientra anche il controllo praticamente ormonale soprattutto degli androgeni. Gli androgeni soprattutto sono però in relazione alle elezioni legate al sonno che scompaiono quasi del tutto quando il livello di testosterone esedico scende sotto 150 nanogrammi per decilitro, mentre sono significamente ridotte per valori di testosterone esedico inferiori a 350. Quindi se scende sotto 150 nanogrammi per decilitro non avremo più elezioni notturne. Se sta tra 150 e 350 avremo ancora elezioni notturne. Sopra 350 saranno ridotte ma ci saranno ancora, sopra 350 avremo normali elezioni notturne. Quindi sotto i 150 nanogrammi per decilitro è importante fare una terapia a base di testosterone e integrazione per l'inquodododismo e la ripresa della funzione dell'attività anche perché si è visto che il testosterone associato praticamente all'individuo di la fosfo di esterasi 5 tendono, che sono quelli che l'effetto del favore di agra sono quelle praticamente a favorire la massima erezione. E quindi capiamo che oggi sulla erezione del pene agiscono due sistemi. Uno è quello del viagra, dell'ossido nitrico, l'altro invece l'abbiamo appena detto, praticamente è quella delle prostaglandine che non agisce attraverso la via della CGMP, della guanilato ciclasi, ma dell'adenilato ciclasi. Quindi qual è il concetto? Che oggi inoltre esistono altri due tipi di erezione, sempre rimanendo nell'ambito di quello che abbiamo appena detto, che sono uno androgeno dipendente, riferibile a quelle che sono le elezioni durante il sonno alla fase REM, quindi se noi vogliamo capire i nostri livelli di androgeno, dobbiamo sapere se abbiamo le elezioni durante la fase REM del sonno, l'altro invece è parzialmente androgeno indipendente, ma dipende anche quello dagli androgeni, che è associato alle elezioni in risposta agli stimoli visivi. Cioè vediamo una bella donna, vediamo un film, vediamo qualcosa che ci stimola, potremmo praticamente già avere questo stimolo erettile in base praticamente allo stimolo visivo. Ok? Quindi il controllo locale invece dell'erezione e quindi l'attivazione, l'inibizione, l'orogeno e l'azione si esprima a livello locale del pene mediante le cellule endoteliali, mediante la modulazione del rilascio dei neurotrasmettitori in grado di indurre vasodinatazione, quindi attivazione del meccanismo dell'erezione o vasocostrizione, che è l'inibizione dell'attivazione. E soprattutto dal prevalere di una via, quella dell'erezione e quella dell'inibizione dell'erezione, avremo uno stato di flaccidità o di erezione del pene e il cambiamento di uno stato all'altro. Soprattutto l'identificazione delle vie non adenergiche e non colinergiche ha permesso di caratterizzare quali siano gli effetti finali del sistema nervoso convolto nella erezione. Infatti, mentre l'attivazione delle fibre colinergiche stimola i neuroni postgangliari e quindi ritorniamo e questo è un concetto importante, l'attivazione delle fibre colinergiche, sempre legata alla colina, stimola i neuroni postgangliari, non andenergici, non colinergici, quindi che cosa vuol dire? Che sempre tutto parte dal cervello per via colinergica. Ecco l'importanza colina, il resta colinergico solo nel parasimpatico. Mentre, oltre ad inibire il sistema dorocolombare della via adrenergica, attiva anche il sistema colinergico pregangliare, le fibre postgangliari, non adrenergiche, non colinergiche. Sembra complicato, però capiamo che alla base di tutto, cioè prima di tutto, innanzitutto, buoni livelli di testosterone ne abbiamo parlato, ma buoni livelli di aceto in colina. Ecco il nuovo neurotrasmettitore che traduce un segnale di bigliene in un segnale fisico, che è legato praticamente alla presenza della colina e quindi noi potremmo dire che il miglior integratore per il colesterolo è il fegato che funziona bene, lo abbiamo ripetuto, è la colina. La colina, la colina è importantissima per avere la disponibilità di circolina perché anche i neuroni postgangliari, non adenergici, non colinergici, vengono stimolati a rilasciare ossido nitrico, che è il principale neurotrasmettitore in grado di promuovere e mantenere l'erezione e quindi lo fanno mediante, questi vengono stimolati dall'attivazione delle fibre colinergiche che è il grado di stimolare i neuroni postgangliari del sistema noradrenergico non colinergico. Quindi capiamo bene che forse prima dell'ossido nitrico non c'è bisogno dell'arginina, ma c'è bisogno innanzitutto della colina perché la colina rappresenta quindi la base su cui viene costruito praticamente il sistema colinergico. Vi ho fatto questa lunga spiegazione, anche complicata per me perché non è la mia materia specifica, per farvi capire che alla base delle lezioni c'è prima la neurofisiologia, non possiamo saltare tutte le fasi e partire direttamente con l'ossido nitrico perché più utilizziamo l'ossido nitrico esogeno e meno il nostro sistema noradrenergico, non colinergico, darà praticamente una scarsa produzione di ossido nitrico e quindi disattiviamo la capacità fisiologica, per cui saremo schiavi poi dell'assunzione dell'ossido nitrico o del viagolo dei farmaci simili. e quindi diciamo che il parasimpatico, la via colinergica, l'abbiamo detto, svolge un'importante fondamentale sull'erezione, sia come via parasimpatica, sia come via non colinergica, non noradrenergica. Invece il sistema simpatico ha un controllo negativo sull'erezione, determinando lo stato di flaccità peniena che si mantiene per la gran parte del tempo e tale inibizione, tale azione inibitoria può essere esercitata mediante anche l'inibizione dell'attività delle fibre terminali dei neuroni non adrenergici, non colinergici, per cui è importante avere l'acidilcolina per poter stimolare e superare la barriera determinata praticamente dall'attivazione del sistema simpatico sui neuroni postgangliari, non adrenergici, non colinergici, NAMC, ok? Quindi l'ossido nitrico viene lasciato sia dalle terminazioni nervose libere, sia dalle cellule endoteliali, ma in condizioni fisiologiche l'ossido nitrico lasciato dalle fibre nervose è quello quantitativamente più determinante, per cui è vero che dobbiamo avere un endotelio sano, un sistema cardiocascolare sano, ma dobbiamo avere una buona stimolazione da parte, del sistema colinergico, dei neuroni postgangliari, NANC, non adrenergici, non colinergici, perché sono quelli che liberano maggiormente l'ossido nitrico a livello del nostro corpo i cavernosi e quindi danno la possibilità di gonfiarsi del pene. L'ossido nitrico è un prodotto di clivaggio, la cui sintesi parte dall'elle arginine e è catalizzata dall'ossido nitrosintetasi praticamente NOS. L'ossido nitrico è in grado di indurre il rilassamento delle cellule muscolari lisce attraverso l'aumento della guanosina monofosfato ciclico CGMP mediante la stimolazione diretta della guanilato ciclasi. Il guanilato ciclasi a livello intracellulare attiva la proteine kinase C la quale causa una riduzione dell'ingresso del calcio all'interno delle cellule. Tolto questo blocco che normalmente noi abbiamo quando il pene praticamente è in condizioni di riposo tutti questi eventi vanno al rilassamento della muscolatura liscia. Il CGMP cioè praticamente stiamo dicendo CGMP stiamo parlando della guanosina monofosfato ciclico residuo è catalizzato da quale enzima? Dall'enzima tipo 5, quello delle fosfodiesterasi, le PDE5 ed è il target degli inibitori enzimatici che sono il Viagra appunto utilizzati nelle funzioni elettive che vengono chiamati PDE5 inibitori che sono praticamente il Viagra, il Sidenafica, il Viagra ed altri farmaci simili. L'altra via praticamente che è importante e poi la vedremo è quella dell'adenilato e non della CGMP ma del CAMP. Ricordiamo soltanto prima di passare a vedere velocemente la via AMP dell'adenilato che il testosterone ha un ruolo periferico anche lui sul controllo delle reazioni attraverso la modulazione della via dell'ossido nitrico esercitata attraverso la stimolazione sia dell'enzima che produce del NOS che produce l'ossido nitrico sia l'attività del fosfodiesterasi ma la vera liberazione dell'ossido nitrico avviene negli antineuroni postgangliari con adrenergi non colinergici che vengono stimolati a loro volta invece dal sistema colinergico. Questo spiega quindi anche il fatto del testosterone che agisce su questi livelli che siccome va a inibire quindi l'attività della PDE5, della fosfodiesterasi 5, praticamente il testosterone potenzia l'effetto praticamente del Viagra. L'altra via che è stata praticamente scoperta e che è una via diciamo importante soprattutto nel promuovere e nel mantenere l'elezione è la via della AMP e del CMP dell'adenilato ciclasi che è la via praticamente che può essere stimolata mediante i farmaci come le prostaglandine che venivano addirittura iniettate nel pene e la prostaglandina che va a essere attivata e prodotta da quest'altra via che attiva l'adenilato ciclasi è la PGE1, la prostaglandina tipo 1 che può essere sia endogena prodotta dall'organismo sia praticamente esogena, quella che introduciamo come la parpaverina e induce il rilassamento delle cellule muscolari lisce mediante l'attivazione dell'adenilato ciclasi e il conseguente aumento della via intracellulare del CMP che attiva la proteina Udinasi A e l'effetto finale è che c'è un calo del calcio praticamente intracellulare con rilasciamento della poscolatura e quindi praticamente la tumescenza del pene. Ecco i meccanismi di elezione ma quello che è importante capire è che la via principale che è quella che porta alla produzione dell'ossido nitrico è fondamentalmente l'elemento principale su cui noi dobbiamo porre la nostra attenzione. è la via praticamente colinergica e soprattutto la biodisponibilità di questa acetilcolina che parte dalla produzione dell'unione della colina con l'acetato, colina che può essere prodotta dal nostro organismo a partire dalla selina ma abbiamo livelli alti, io sto prendendo tre cazzo al giorno, oltre a tutti i benefici che ha sul fegato e guarda caso il fegato praticamente è in stretto rapporto col cervello e il cervello praticamente è protetto dal fegato, il fegato lo potremmo dire che è un vero filtro di sangue che protegge il fegato insieme alla barriera ematoencefalica, quindi il cervello è protetto praticamente dalla barriera ematoencefalica, vive in un liquido suo chiamato acqua di rocca che è simile all'acqua di rocca al liquido cefalo-alachidiano e il sangue è tenuto pulito e compensato da quegli stimoli che gli arrivano anche indirettamente da quello che è il cervello e il fegato è al servizio diretto del cervello per filtrare praticamente il sangue dalle tossine, un malessere praticamente epatico si manifesta questo livello. Nel fegato viene sintetizzata a partire dalla serina la colina, guarda guarda l'importanza del discorso, una disponibilità di colina nel fegato favorisce la mobilizzazione perché il fegato molte volte non riesce neanche a produrlo per sé o per il cervello e quindi praticamente l'intossicazione del fegato è uno dei segnali del fegato grasso proprio di un abbassamento dei livelli di colina, per cui da oggi in poi quando qualcuno vi dirà ho un fegato grasso vuol dire un abbassamento dei livelli di colina la prima cosa a fare è detossificare il vostro fegato, depurarlo utilizzando la colina e questo lo vedete anche miglioramento della disfunzione elettrica e soprattutto nella capacità che il sistema ecolinergico sotto stimoli visivi o mentali di andare, stimolazioni periferiche, di andare praticamente a disattivare il sistema toro-colombare, adrenergico che ha un'azione inibitoria sul pene e su cui agisce a lungo tempo, andare a liberare così praticamente il sistema pelvico che porta praticamente all'attivazione, mediante stimoli del centro parasimpatico sagrale S2-S4 che attiva praticamente la via che abbiamo visto della produzione dell'ossido nitrico che è principalmente legata non solo all'attività delle cellule endoteliali ma soprattutto alla importanza della stimolazione delle fibre post-greditoroni, post-gangliari che sono non adrenergiche e non colinergiche attivate dal sistema colinergico praticamente pregangliari e che liberano maggiormente la quota di ossido nitrico dando quelle erezioni di grande significato e di grande importanza che caratterizzano praticamente una vita sessuale felice e che stabilizza la coppia. Con questo spero praticamente di avervi diciamo arricchito. Vi ricordo ancora praticamente il prodotto di cui stiamo parlando e questo prodotto praticamente è il prodotto che noi consigliamo. È un prodotto che contiene 250 mg di colina bitartrato, oltre a 100 mg di metilsulfometano, acetilcisteina 100 mg, tarassago 100 mg, vitamina C 80 mg, genziana 50 mg, carciofo 50 mg, selenio 27,55 mg, vitamina E 6 mg e 0,7 mg di vitamina B6 e di vitamina B2. Spero con questo di avervi diciamo arricchito di tutte le informazioni necessarie per avere praticamente quello che un prodotto richieste e sarete voi poi a dirvi i benefici che ottenerete.